Trova un portafogli con mille euro in contanti e lo restituisce alle forze dell'ordine. È il nobile gesto compiuto da Fiorenza Coli, una commessa pesarese di 54 anni, che ha ritrovato l'oggetto in zona tombaccia e senza pensarci due volte lo ha consegnato in questura. Per dimostrare vicinanza e riconoscenza alla signora, il questore Antonio Lauriolla ha voluto invitarla ad una conferenza stampa, raccontando questo gesto di alto senso civico. Logicamente ho dovuto aprirlo, mi è dispiaciuto, glielo ho anche detto, però per poter vedere se c'era un documento o qualcosa, per poterlo riportare o chiamarlo. Però purtroppo non c'era indirizzo, niente, e quindi ho portato in questura, è stata la prima cosa che ho pensato. Quando poi ho visto tutti quei soldi, sinceramente, ho richiuso, svelto e sono partita in questura. Quando e dove è accaduto? Io abito la tombaccia nell'angolo di via San Marino con via Terni. Era sopra la riga bianca dello stop, quindi il portafoglio nero sopra la riga bianca si vedeva. Gli agenti poi hanno riconsegnato l'oggetto al legittimo proprietario, un meccanico del posto a cui era uscito il portafoglio di tasca mentre si recava al lavoro a bordo del suo scooter. È arrivato in pratica due ore dopo a casa e mi ha ringraziato all'infinito, insomma. Io ho detto, mi basta un grazie, finito lì non ho bisogno di... come se fosse per me.